Luca Argentero Argentero ha fatto fatica a trattenere l'emozione ascoltando la storia di Anna che, chiamandolo a C'è posta per te, ha voluto fare un regalo speciale ai figli Francesco e Melissa. La donna ha spiegato di averli trascurati dopo la morte di suo marito, avvenuta un anno e mezzo fa a causa di una brutta malattia, e il suo racconto ha toccato molto l'attore molto apprezzato dai due ragazzi napoletani, che l'hanno adorato nel ruolo di Salvatore, da lui interpretato nella Fiction Sirene. Dopo aver chiesto perdono ai suoi ragazzi, Anna ha lasciato spazio all'ingresso in studio di Argentero, che ha abbracciato i ragazzi confidando, Io, trattengo a stento l'emozione, in voi rivedo una famiglia unita come la mia. Ho quindi l'arduo compito di portare un po' di sorrisi, so che non è stato facile in questo periodo ma sono sicuro, che ce la farrete.